Buonasera, mi chiamo Anna, ho fatto il corso delle costruzioni di unghie gel UV con Maria, sono contenta, sono rimasta contenta di quello che ho imparato da lei, invece ho una buona maestra, comica, e spero che vi piace quello che sono riuscita a fare, a me sì, io sono contenta di quello che ho fatto, e pure di quello che ho imparato da lei, e le ringrazio molto, e ciao!